Arena a sinistro e il terzo gol in campionato per Alessandro Arena che su calcio di punizione al sesto minuto del primo tempo fa Olbi a 0, Gubbio 1 e vanno a esultare subito in panchina tutti i calciatori del Gubbio Alessandro Arena timbra lui la parabola a giro che va a insaccarsi perfetta l'angolino basso praticamente sopra la barriera